Negli ultimi 4-5 anni l'immunoterapia ha rivoluzionato la cura del melanoma metastatico e presto questi farmaci potrebbero essere utilizzati anche in una fase più precoce di malattia. Noi ci facciamo spiegare come stanno le cose da una vera esperta, dalla professoressa Paola Queirolo, che abbiamo incontrato qui a Milano in un incontro con la stampa organizzato presso la Sala Stampa Nazionale. Professoressa Queirolo, cosa è cambiato dal 2011 ad oggi nella terapia del melanoma metastatico? Lui ha fatto vedere un grafico che parlava da solo ma vorrei che ce lo raccontasse. La terapia del melanoma metastatico quando avevamo a disposizione solo la chemioterapia era davvero approvata solo sulla base di saltuari e risposte a benefici clinici ma mai sulla base di una veramente dimostrato vantaggio di sopravvivenza. Avevamo un 25% dei pazienti vivi ad un anno e sei mesi la mediana. Dal 2011 in poi con l'avvento dell'immunoterapia, cioè degli farmaci immunomodulanti da una parte e delle target therapies dall'altra, abbiamo avuto dei farmaci finalmente efficaci rispetto alla chemioterapia tradizionale perché tutti gli studi sono stati fatti verso la dacarbazina che era un po' il nostro riferimento come terapia standard del melanoma avanzato, hanno dimostrato un vantaggio a lungo termine. Iniziando con l'ipilimumab che è il primo anticorpo immunomodulante che sblocca un blocco immunologico e quindi fa scatenare il sistema immunitario contro il tumore, infatti gli effetti collaterali di questi farmaci sono di tipo autoimmune, abbiamo una sprovvivenza a lungo termine per i pazienti intorno al 20%. Possiamo dire che nella fase metastatica della malattia, quindi avendo ormai il dato 10 anni, probabilmente un quinto dei pazienti sono guariti nella fase avanzata grazie a questo primo anticorpo monoclonale. Persone che prima non avevano praticamente nessuna chance? Assolutamente perché noi sappiamo che con le terapie tradizionali meno del 2% dei pazienti viveva oltre 5 anni, quindi il 20% è un dato che ovviamente ci ha dato tanto coraggio nel proseguire per questa strada dell'immunoterapia e infatti abbiamo già il successivo anticorpo sempre che sblocca un blocco, che questa volta è il PD-1, il PD-Ligan-1, e questo tipo di anticorpo anti-PD-1 fornisce una sprovvivenza a lungo termine nei pazienti generali anche pretrattati intorno al 35%, ma nello studio registrativo 0,67 abbiamo visto che la sopravvivenza a 4 anni è del 46%, quindi è più che raddoppiata la sopravvivenza a lungo termine che si ottiene con questo tipo di strategia terapetica, peraltro con effetti collaterali blandissimi rispetto all'ipilimumab, quindi più risposte, più sopravvivenza e meno effetti collaterali. Da qui il pensare che per quell'altra metà di pazienti in cui purtroppo ancora non abbiamo un beneficio, che muoiono a 5 anni anche con questa nuova strategia, si possono fare probabilmente molte cose, tra cui combinare con altri immunoterapici, abbiamo il dato già della combinazione con l'ipilimumab, anche questo approvato in Europa e non in Italia, abbiamo il dato delle altre combinazioni con ad esempio il toll-like receptor 9 agonist, che è un farmaco immunomodulante che si inietta dentro il tumore, sappiamo che il melanoma spesa metastasi superficiali e quindi facilmente iniettabili, con questo farmaco che dà appunto un aumento dell'antigenicità del tumore, quindi dovrebbe favorire sulla base dei dati di fase 1-2 la risposta ottenuta con l'antipid 1, lo stiamo testando in uno studio randomizzato di fase 3 in corso nei nostri istituti proprio in questo periodo, e un'altra strategia è quella di anticipare il trattamento in una fase precoce in cui possiamo dare un tempo definito ai pazienti dopo l'intervento chirurgico di trattamento, quindi non come nella fase metastatica in cui il trattamento si fa fino a tossicità inaccettabile o a progressione di malattia, ma in questo caso per un anno dopo la chirurgia, una chirurgia che può essere fatta sia sulla malattia metastatica linfonodale regionale, cioè pazienti in terzo stadio, sia sulle metastasi a distanza resecate. Nello studio 2-3-8 sono entrati anche pazienti con metastasi cerebrali, metastasi epatiche resecate, che però erano liberi da malattia. Per questo gruppo di pazienti c'era un grande almet need perché mai erano stati fatti studi e quindi dovevamo aspettare dopo la chirurgia la successiva metastasi per poter iniziare un trattamento sistemico. Senta, con questo approccio appunto che lei ci ha appena raccontato, che è l'approccio cosiddetto adiuvante, c'è un farmaco che sta per essere provato anche in Italia, che è il Nivolumab, appunto lei ha detto lo studio 2-3-8. Cosa aggiunge appunto l'utilizzo inadiuvante del Nivolumab in questi pazienti? Quindi pazienti già ressecati dove però appunto ci sono forti rischi che la malattia si ripresenti. Sì, diciamo che in pazienti come questi ad alto rischio di ricaduta perché venivano ruolati dal Tarso B, cioè non con le micrometastasi ma con le macrometastasi, linfonodi e metastatici, praticamente la probabilità di guarire con la solo chirurgia è bassissima. Invece con il Nivolumab abbiamo dato due anni di relapse di survival, cioè di sopravvivenza senza ricaduta, che riguarda il 65% dei pazienti, verso il 50% che fanno l'ipilimumab. Quindi un vantaggio già rispetto a l'ipi che non è il placebo come negli altri studi di adiuvante, significativo in termini di asar ratio, cioè una riduzione del rischio del 34% di ricaduta. Ovviamente il dato è importantissimo, attendiamo i dati di sopravvivenza che probabilmente saranno portati all'esmo di quest'anno, comunque sia urgente che venga approvato un tipo di strategia diversa, perché potremo guarire moltissimi pazienti senza aspettare appunto il fatto che avvengano le metastasi a distanza. Ecco, un altro aspetto che le ha toccato, sempre parlando dell'immunoterapia, è la miglior gestione della risposta appunto a questi farmaci. Cosa intendeva dire, professoressa? Allora, l'immunoterapia ha un meccanismo d'azione completamente diverso rispetto alla chemioterapia, un meccanismo d'azione che comporta un'attivazione del sistema immunitario che può avere tempi diversi secondo dei pazienti. Quindi noi possiamo assistere a delle iniziali progressioni di malattia, che non sono delle vere progressioni, ma delle pseudoprogressioni. Cioè una malattia che aumenta perché si infiltra ad esempio il tumore di linfociti, oppure anche una malattia che evidenzia delle metastasi che erano microscopiche e che quindi non potevano essere viste, però si evidenziano e quindi vengono considerate le progressioni. Ancora in molti centri di oncologia in Italia che hanno l'autorizzazione per scrivere questi farmaci, questi pazienti interrompono il trattamento perché è considerato una progressione. In realtà dobbiamo sempre ricordare, da tutte le analisi degli studi che abbiamo fatto, una che ho pubblicato anche io recentemente, non solo nel melanoma ma anche in altre patologie, che riguarda almeno il 30% dei pazienti questo tipo di pseudoprogressione. Quindi un dato importante. Un terzo dei pazienti hanno delle progressioni che in realtà le rivalutazioni successive a progressioni non sono. Quindi è un messaggio di speranza quello che emerge da questi studi e speriamo anche appunto che portino all'approvazione di questo farmaco. Sì, assolutamente. Diciamo che il dato della sopravvivenza è da sempre considerato importantissimo, il dato più importante per approvare una strategia. Però nel caso della terapia adiuvante, diciamo che la sopravvivenza libera da ricaduta può essere considerata un vero surrogato. Questo è anche tema, è oggetto di un lavoro che è stato pubblicato da Succio, che è lo statistico di RTC, che ha dimostrato come anzi di solito la relapse free survival sia meno significativa della overall survival nell'immunoterapia. Quindi probabilmente se per quanto riguarda il melanoma specificamente abbiamo un dato significativo per questa, la overall survival sarà certamente significativa. Grazie a tutti.